Ciao ragazzi, Tokyo è nel pieno della stagione della fioritura dei ciliegi. Beh, a dire il vero alcuni ciliegi già stanno cominciando a sfiorire, ma comunque, come qualcuno di voi già saprà, durante questa stagione i giapponesi fanno Hanami, cioè osservano la fioritura dei ciliegi. Proprio per l'occasione quindi ho pensato di fare una piccola animazione per voi dove vi mostro qual era la mia idea di Hanami prima di venire in Giappone e qual è invece la realtà dei fatti. Spero che il video vi piaccia, spolliciate, condividete e noi ci vediamo molto presto perché sto preparando un video fantastico con delle bellissime immagini di fioritura dei ciliegi. E questo è tutto, ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!